Questa mattina sono venuti in ritiro dei ragazzi che loro dovevano ricordare questo ragazzo, il loro, mi sembra, Manga, detto Manganello, era un ragazzo della Curva, che sono dieci anni mi sembra che è morto nel 2007, e ci ha uno chiesto se il capitano e noi hanno fatto senza se e senza Masi. E poi loro hanno detto, no, noi abbiamo fatto anche un ricordo per lei, perché sappiamo che il 3 dicembre c'è stata la ricorrenza di sua moglie, e questo mi ha fatto enormemente piacere, e li ringrazio di cuore dalla parte mia, dalla parte della famiglia di mia moglie, perché sono gesti che lasciano il segno. Quindi grazie alla Curva Nord di questo loro pensiero. Allora mister, diciamo, qual è la sua impressione al termine di questo incontro terminato 1-1? Innanzitutto che questa Ternana non è morta, che questa Ternana se la gioca con tutti, che questa Ternana quando sta in campo e sta in difficoltà, come lo siamo stati nel primo tempo, perché avevo chiesto dei movimenti diversi agli attaccanti sulla prima fase di difesa, e loro rimanevano centrali, invece devono stare aperti larghi sui loro tersini. Siamo andati in difficoltà, e quando ho visto che la situazione non riusciamo a riprendere, ho dovuto cambiare un atteggiamento tattico, fino ad arrivare a un atteggiamento spregiudicato con le due punte centrali e i due esterni, dove la Ternana poi, nella seconda parte del secondo tempo, leviamo il forse, meritava qualcosa di più di un pareggio. Mister, ieri hai lanciato qualche frecciatina alla stampa Ternana, però hai elogiato come sempre i diffusi rosso-verdi. Oggi l'ha letto lo striscione in curva est? No, non l'ho letto, perché non ci vedo. Se me lo dici, che diceva? Diciamo che è un'interpretazione molto dialettale, diciamo che il boccino che va vicino alla boccia non permette così di vincere la partita. Sì, ma permette di fare un punto. Quando metti la palla vicino al boccino fai un punto. E noi piano piano oggi dobbiamo fare un punto, perché questa squadra forse riesce a dare questo. Però noi siamo, io penso, con questa rosa non stiamo demeritando, non siamo una squadra che vi fa fare figuracce, non siamo una squadra che ci prende la pallona agli avversari, non siamo una squadra che rubicchiamo un punto, siamo una squadra che di 12 pareggi, io penso che più della metà questa Ternana li poteva portare a casa come vittorie, con un po' più di esperienza, con un po' più di attenzione, con un po' più anche di fortuna, perché nel calcio ci vuole un po' di fortuna. Io sono molto fiducioso su questa squadra, adesso mancano tre partite alla fine del campionato, poi dopo queste tre partite, come ha detto il padron, diamo quattro partite e vediamo come stiamo, e poi ne riparliamo. Io penso una cosa che, dal primo giorno di ritiro ad oggi, io penso che nessuno di voi pensava che la Ternana se la potesse giocare con tutti, e se voi siete arrabbiati, perché magari siamo stati raggiunti in dei pareggi all'ultimo secondo, perché avete fatto una statistica, ma non so quale testata, e avete visto che la Ternana poteva stare un'altra, con chi ve la volete prendere, con l'allenatore? Soprattutto anche i tifosi sono così soddisfatti. No, ma i tifosi, allora scusate, i tifosi pagano. Perché parla sempre della stampa? Perché voi non siete parziali, perché voi, rispetto agli altri giornalisti, vengono, venite e non ci fate pesare gli errori e non ci elogiate sulle cose buone. Se tu mi fai una partita che mi parli dal 91esimo minuto e ti dimentichi i 90 minuti, a me questo mi dà fastidio, perché siete i terni. Poi giro il canale, vedo le altre tv nel derby, e parlano tutti bene, ci hanno ridicolizzato, una squadra così. Allora io voglio, perché voi andate a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto e non vedete il bicchiere mezzo pieno? Perché ci dovete aiutare. Voi lo sapete, avete visto il calcio, avete visto i calciatori forti, i quaterni mi sembra, mi sbaglio. Adesso vediamo uno striscione che hanno messo i tifosi, quindi oggi mi do un calzacchi di tifosi. I tifosi, innanzitutto pagano il biglietto e ponono di quello che gli pare. Va bene? Allora, soddisfatto della prestazione di Bombaci? Sono stato molto soddisfatto e mi dispiace che l'ho cambiato, però era una scelta dovuta che non poteva reggere 90 minuti e dovevo fare qualche cosa perché la squadra non capiva la squadra avversaria quindi dovevamo cambiare atteggiamento. E se voi avete visto quando abbiamo cambiato atteggiamento negli ultimi 15 minuti del primo tempo la Ternana ha creato due o tre situazioni che li ha messi in difficoltà per poi non parlare del secondo tempo dove con l'ultimo cambio con Tiscione dove abbiamo giocato con due punte centrali c'era una squadra solo in campo che era la Ternana. Allora hanno fatto un carcio d'angolo su una mischia dove la palla è rimasta lì ma la Ternana ha avuto tre o quattro situazioni che poteva realizzare il gol della vittoria. Ha giocato la pari oggi la Ternana con il Parma? Forse meritava qualcosina in più. Ma anche col Perugia, anche col Pescara, anche con la Cremonese, anche con le altre squadre che abbiamo pareggiato la Ternana ha giocato in superiorità perché oggi, e voi parlate sempre sicuramente prendiamo gol perché è allenatore ingenuo. Oggi un allenatore come Tessera ha preso gol a 15 secondi dalla fine e un allenatore come Gattuso che è stato campione del mondo ha preso un gol al quinto minuto di recupero sul gol di un portiere. Il calcio è questo. Non date giudizi troppo affrettati perché qui mi sembra questo qui. È facile sparare sulla croce rossa nei momenti di difficoltà. Vedete il bicchiere mezzo pieno perché ci vuoi dare una mano? Perché se voi vedete sempre il bicchiere mezzo vuoto, sempre mezzo vuoto, mezzo vuoto. Poi alla fine, oggi se avessimo vinto, oggi, tutti quei bicchieri mezzo vuoti che voi vedete diventano tutti i mezzi pieni. Se avessimo perso tutti i bicchieri che io vedo mezzo pieni erano tutti mezzo vuoti perché arrivavete a casa. L'avete detto voi con i commenti che avete fatto? No, oggi avete parlato perché siccome l'ho sculacciato e allora l'ho sculacciato e questa qui mi ha dato un po' fastidio perché ogni tanto bisogna sculacciare pure a voi. No, non ce l'ha fastidio niente. Noi mettiamo fine a questa polemica perché mi sembra una polemica sterile, ridicola, non serve a niente. e te parli, o scusa, o lei parla perché mi hanno detto gli devi dare del lei perché hai distanza. No, a me lo parlate tu. Allora, siccome è un conoscitore di calcio però mi piacerebbe che ogni tanto analizzate la partita dal primo minuto al novantasesimo. Ma certo. Questo è quello che chiedo. Elogiate una squadra Elogiate una squadra che sapete le grandi difficoltà e voi, dentro di voi, lo sapete che questa squadra doveva avere meno punti di quelli che abbiamo ma soprattutto nelle prestazioni che noi vi abbiamo sorpreso perché nelle prestazioni questa squadra ha sbarellato solamente a Bari e sono 18 partite non 3 partite 18 partite questa squadra ha sbarellato solamente a Bari. Grazie. Va bene, grazie. Buonasera. Grazie a voi.